Ciao, sono Erika Corsi, sono responsabile dell'Unafar del Volley, un progetto dedicato ai più piccoli qui ad Eurocamp e credo che Eurocamp sia un regalo, un regalo che le famiglie possono fare ai propri figli perché è un momento veramente speciale di aggregazione, non solo a livello sportivo in quanto Eurocamp ha uno staff veramente e altamente qualificato per quanto riguarda tutti gli sport in particolare io parlo della pallavolo, ma credo che sia proprio un percorso formativo che le ragazze devono provare è un momento di aggregazione, di crescita personale e io consiglio a tutti di venire ad Eurocamp Vi aspetto e ci vediamo presto!